Sì, è bene. Sì, mamma del... Ray! Mamma del Sonia, che fa? Dove va? No, non può andare in giro così. Come? Mi dia un lapis. Il mio taccuino, presto. Fattorino, Fattorino. Sì, mi sogna. Hai visto quell'uomo che è passato ora? Guarda. Chi è quell'uomo col bastoncino? Sì, gli devi portare un biglietto. Tieni. Sì, madame. Fa presto, corri. Margaret, ma non è? Sì, è proprio lui. Buongiorno a me, Singleton. La finisca di maltrattargli la bocca. Non lasci stare adesso. Chiedo scusa dell'incomodo. Avrei dovuto dir grazie. Ma sono in grado di dominare una bestia da me sola. Grazie ad ogni modo. E ora può andare. Credo che non mi riconosca. Lo credo anch'io. Ha qualcosa di speciale da ricordarvi? Mi chiamo Royal. Avevamo una fattoria vicino a casa sua. Lei veniva spesso a farmi visita nei campi. Non mi ricordo nulla di simile. E comunque non permetterei a nessuno di parlarmene. Già che ci siamo, le rinfresco la memoria. L'ho baciata. Suo padre ci ha visto e mi ha rotto il bastone sulla schiena. È un particolare che mi ha colpito. Giovanotto, lei è ubriaco. Ma stia a zittare. Ah, ora mi rammento di lei. È quel ragazzo insolente e villano che osava molestarmi. E che io prendevo ferocemente in giro. Ah, porta le scarpe adesso. E non usa più reggersi i pantaloni con uno spago. Ma quanto arresto non è cambiato molto. Lei sì invece. È diventata tale quale suo padre. Lasci le briglie. Signore. 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 Signore.